Ok, iniziamo il palco, attraverso la buona. No, no, gatto. Madonna, io. Due ore, due ore, due ore, due ore. Ok, due ore. E' la zona grande. Va, quel secondo passaggio, l'Est con la superatura a domande, se vuole la Capulano con la Pazete, Manolo Ello con la Ferrari, Pugugno con la Respuri, Spartaio con la Renault, Mancietti con la Estes, Sgannelli con la seconda superatura, Giorgio Alperto con la Estes, Sarra con la Jordan, Collini con la Par, Magalli con la Mercedes, Sattri con la Sportingia, Gartelli con la seconda Red Bull, Borgagni con la Renault, Borgagni con la Torri Mancietti con la portiglia, Mancazzano un dritto! Nel Relo, Giorgio Alperto con lapfine! Occhio, occhio! Ragazzi, tranquilli, La macchina non se fa, come no, te fermi, eh? Marco, Paolo, si, e non va bene così, Paolo, e non se può fare il lavoro con tu. Non esiste, va bene, a posto. Posizioni Capuano, Futurino e Farberi, Giorgio, Scarra, Manciotti, Pagagli, Zainelli, Fabri, Fittotti, Pellini, Carpelli e Morgagni. La macchina, brava, posso te? La macchina, la macchina, la macchina, la macchina. Lì, 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 lì. Ho detto, posso, vado, possiamo. Allora, le posizioni Capuano, Futurino, Farberi, Maisotti, Sarra, Pagalli, Zainelli. Paolo, ma adesso anche tu. Siamo qui, io e dietro c'è il marcoletto, grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. 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 Caguano, a 3-8 Lenci, a 8 Manciotti, a 11 Barberi. Ho dato le prime posizioni, Magno Cavallo, Caguano, Lenci, Manciotti, Barberi, Coutugno, Cagnocardelli, Giorgio, siamo a 11 minuti e 40. Siamo a 2-2 minuti di gara. Il tuo stop, siamo a 1-2 minuti. Da dove c'è stato? Non ho staccato uno che mi manca, non so di via. Avete ancora un minuto abbondante per farlo. No, no, magari potrà anche la problematica. Grande, vai. Vai qua. Vai qua. Grazie. 3 minuti e 20. Luca è in ogni cavallo in tocca a 2 secondi di cittadiano, a 7 secondi e 6 Lenci, a 8 e mezzo Manciotti, a 14 di petugno. 1, 2 minuti. Alla fino a 15 pari. Lo in. Lo in. Lo in. Lo in. Lo in. Lo in. Le in. Lo in. Lo in. Lo in. Lo in. Lo in. Lo in. non è venuto al termine in testa ma ne cavallo con un secondo e due sul capuano a 10 secondi manciocchi a 12 filenzi a 15 gutugno poi barberi cardelli giorgio gianinelli pavigbellini di cozzi morgagni sarra 1.20 al termine rimangono gli stacchi grassomodo invariati magno cavallo capuano marciotti a 10 secondi c'è manciotti a 13 filenzi a 19 gutugno 1.20 al termine rimangono gli stacchi grassomodo 1.20 al termine rimangono gli stacchi grassomodo 1.20 al termine rimangono gli stacchi grassomodo Grazie a tutti. Grazie a tutti.